Buongiorno, io mi chiamo Katia Wulfard, sono un medico, specialista in medicina interna e medicina d'urgenza. Ho lavorato per dieci anni in pronto soccorso e poi tanti anni fa ho fatto la scelta di lavorare in libera professione occupandomi di medicina integrata e lavorando a 360 gradi sulla salute di adulti e bambini. Utilizzo il test test drive dal gennaio 2023 e al momento ho effettuato circa 750 test. Lo utilizzo abitualmente nella pratica clinica perché ho visto quanto possa essere utile per aiutare a comprendere meglio la situazione di salute del paziente, a capire quali sono le carenze, quali sono gli eccessi e a fare focus su quelle che sono le priorità di trattamento. Nei casi che ho presentato al convegno ho parlato in particolare di due pazienti con situazioni importanti di stanchezza cronica, problematiche intestinali, problematiche emozionali, riattivazioni virali, situazioni abbastanza intricate e di difficile risoluzione. Pazienti che avevano già fatto esami del sangue quindi arrivavano già con una diagnosi abbastanza certa ma che non riuscivano a risolvere i loro problemi. Abbiamo effettuato dei test seriati che ci hanno permesso di vedere di volta in volta quali fossero le priorità sulle quali lavorare. Le pazienti avevano intossicazione e sovraccarico da metalli tossici, avevano una barriera intestinale in sovraccarico con una leaky gut syndrome, quindi problematiche intestinali, un'alterazione del sistema immunitario anche da riattivazioni virali che giustificava anche la stanchezza cronica e grazie agli input offerti dal test e quindi dalla lettura integrata di tutti gli indicatori del test siamo riusciti di volta in volta a instaurare una terapia mirata. Nel tempo abbiamo seguito le pazienti con dei test seriati ogni 90 giorni, a volte ogni quattro mesi e abbiamo visto come pian piano la situazione clinica sia sicuramente migliorata, l'abbiamo sentito anche dalla testimonianza diretta dalla voce di una paziente in particolare e abbiamo visto come poi gli indicatori siano cambiati nel tempo in base alla terapia utilizzata e questo abbia portato a un benessere generale. Quindi l'est drive è veramente quel qualcosa in più che permette di fare focus e di volta in volta di capire dove andare a lavorare. Io amo fare il paragone della matrioska, è un po' come una matrioska, quando facciamo il primo test abbiamo una visione e vediamo solo quello. Per vedere cosa sta dietro e quindi qual è lo step successivo io devo iniziare a lavorare sulla prima parte, apro la prima matrioska e mi ritrovo con la seconda che non è detto che sia più bella della prima, a volte ci porta a una situazione magari di danno cellulare che prima non vedevamo non perché non ci fosse ma perché il test ci dà delle priorità e quindi dobbiamo seguirlo, togliamo il primo strato, passiamo al secondo e andiamo avanti e pian piano abbiamo dimostrato come il benessere della persona migliori e come pian piano anche il test vada in miglioramento e questo è il nostro obiettivo, che le persone consapevoli del loro stato di salute, consapevoli di ciò su cui si deve lavorare, dell'alimentazione che bisogna seguire, di quello che è necessario togliere e di quello a cui bisogna fare attenzione a livello epigenetico, a livello ambientale, pian piano possano arrivare a migliorare il loro stato di salute e a esprimere soddisfazione come è stato nel caso delle due pazienti che ho presentato.